Ubriaco e sotto effetto di farmaci, un 39enne vicentino viene trovato esanime a terra in Viale Sant'Agostino a Vicenza, soccorso dai sanitari del 118, una volta portato in pronto soccorso del San Bortolo da Di Matto. L'uomo comincia a inveire contro il personale medico che è costretto a richiedere l'intervento dei carabinieri. Il 39enne, incurante della presenza dei militari, continua a sbraitare danneggiando anche il vetro dell'accettazione. Bloccato dai militari, il vicentino è stato ricoverato in psichiatria e denunciato per danneggiamento aggravato.